Dal momento forse più eclatante l'espulsione di Francesco Totti sull'azione del gol di Vucinic, lo vedete, Totti viene sgambettato mentre corre da Olivera, lo stiamo rivedendo nel replay, Olivera gli fa uno sgambetto, Totti cade e poi Francesco Totti va a spingere Olivera e va a protestare con l'arbitro. Per questo viene espulso, rosso diretto per Francesco Totti che dunque salterà anche il derby, vedete la spinta, eccolo qui, la spinta ad Olivera e poi dopo questo episodio c'è stata naturalmente l'espulsione, vedete come spinge Olivera, lo stiamo rivedendo anche nel replay, c'è stata l'espulsione ma vedete come ha reagito il capitano giallorosso. E questo Tania non lo aiuterà, perché rivista la cosa sembra, certamente Olivera fa una cosa scorretta perché era evidente, Totti lo va a spingere però da quell'immagine non ne abbiamo altre onestamente, non sembra gravissima la reazione di Totti, non sembra una reazione scomposta. Queste però forse sono immagini che non aiuteranno nel caso in cui la Roma volesse presentare ricorso alla sicura squalifica, sono immagini che non aiuteranno il capitano della Roma perché non è una scena. No, con tutta probabilità.